salve ragazzi come diceva sempre la mia ex le dimensioni contano poi inspiegabilmente mi ha lasciato comunque oggi mi è arrivato questo pacchettino con dentro qualcosa di piccolino è una bustina che ho trovato nella cassetta della posta intuisco sul contenuto una vaga idea di quello che potrebbe essere e lo voglio aprire con voi e lo sapevo che erano questi ok non c'è altro per quanto piccolini sono tutti qua ma che cosa sono qua dentro ci sono due bustine 3 5 e 5 10 e qua ce ne sono altrettanti uguali esattamente uguali sono due bustine di cuscinetti ma che cosa servono questi cuscinetti così piccoli sono microscopici veramente vedete una cosa direi quasi infinite infinitesimale beh questi cuscinetti intanto costano dieci cuscinetti costano 90 93 centesimi è uno di una di quelle spese che che ti rovinano quasi mettiamo un pochino più a fuoco questi possono essere ottimi visto anche il costo per esser utilizzati come rondelle da rotolamento come rotelline per qualche binario su metallo gli utilizzi in realtà possono essere svariati chiaramente bisogna accoppiarli con una una vite un bullone che entri nel foro interno e il gioco è fatto la cosa buona è poter utilizzare poter utilizzare questo effetto volvente effetto cuscinetto laddove è necessario sfruttare questa questa possibilità di rotolamento vedete sono 10 qua ci sono altri 10 ogni pacchettino 10 costano 93 centesimi ora vi pubblico il link io li ho comprati mi pare su su amazon e però anche su banggood c'è la possibilità di fare un ordine di cuscinetti di queste misure e anche ovviamente più grandi su amazon quando comprate su amazon che cosa accade che praticamente si tratta di un drop shopping non so se la pronuncia esatta ovvero ci sono venditori che si offrono di inviarvi la merce ma in realtà non ce l'hanno loro in magazzino si appoggiano sempre a un un terzo che in questo caso molto probabilmente è banggood al quale inviano l'ordine con il destinatario e banggood il terzo per l'appunto si premura di mandarvi il pacchettino a volte con il mittente che può essere la persona alla quale avete fatto ordine a volte vi arriva direttamente un mittente dalla dalla cina in questo caso a me arrivano da madrid altre volte cosine di questo tipo mi arrivano da dall'olanda o direttamente dalla cina dicevo ok bene ragazzi sono piccoli oggetti che non possono mancare tra la minuteria che magari uno tra viti bulloni rondelle eccetera conserva in garage perché possono servire quando uno meno se aspetta per risolvere anche situazioni un pochino seccanti con questo è tutto spero che il video vi sia interessato vi sia piaciuto vi metto il link in descrizione sia di amazon sia di di banggood vediamo un attimo cosa trovo e ci becchiamo alla prossima ciao e state in campana